One, live. Silvio, allora, hai lo sfondo più bello in assoluto che io abbia mai visto con un ospite collegato, hai la sedia dei miei sogni, cioè il mio sogno sarebbe da sempre fare dei video così, con quello sfondo lì, con il contesto lì, e invece ho questa roba qua triste, capito? Con i libricini, non vale. Grazie, grazie mille. No, noi ci teniamo molto, rappresenta anche un po', se vuoi, un po' la traccia di vita. Mi sono sempre piaciute le cose vissute, le cose che raccontano un po' di me senza fare troppo show off, e quindi in generale amo vivere ambienti che abbiano una personalità, perché raccontano un po' anche la tua. Bello, bellissimo, ma dov'è che sei? Aspetta che lo allargo così vedono anche da casa, diciamo, il dietro. Dove sei geograficamente? Siamo nei nostri uffici di Milano, in particolare siamo in un pezzo del mio studio, che in questo momento abbiamo addivito a studio di registrazione, super semplice, e basta, tutto qua. Bellissimo, e intanto è arrivata Solidea Marrone, grande Silvio, non so chi sia Solidea Marrone, ma è arrivata la clac nella chat, ho notato subito. È una carissima amica, tra l'altro è una bella storia, perché è un po', devo dire, a parte che mi emoziona molto vederla apparire lì, perché penso, non la vedo da almeno otto anni. Beh, veramente? Sì, però è una bella cosa, perché immagina che nella mia vita ho passato circa, ho circa 41 anni, e più o meno la metà l'ho passata a vivere per il mondo, tra Giappone, Cina, Hong Kong, Australia, Corea, Stati Uniti, Medio Oriente, e appunto Solidea, che è la sorella di un mio carissimo amico, che peraltro è appena diventato papà, lo saluto Stefano. Oh, grande! E' stata una bellissima compagna di avventure, in quello del Middle East, ha un marito eccezionale, sono delle persone eccezionali, e quindi questo mi fa sempre ricordare che nella vita devi sicuramente impegnarti tanto, ma devi avere anche la fortuna di trovare delle persone pazzesche. E' proprio la qualità delle persone che hai intorno che fa la differenza, nel modo in cui uno riflette, decide. Io devo dire, da quando ho intorno persone di un certo tipo, a partire dalla mia dolce metà, cioè la mia vita è cambiata completamente. E se tu invece sei circondato di persone che, come dire, hanno una visione diversa dalla tua, negativamente parlando, non perché non sia bella la diversità, ma che magari ti tirano giù, che qualunque cosa dici, no, ecco però, Monti, da dove pensi di andare? E' un casino, insomma, così, no? E' come giocare a calcio e insieme c'è uno in porta che dice, ragazzi, non la parerò mai. E vabbè, è un casino, insomma. No, avere persone in gamba che hanno la metteria giusta. Pensa, Marco, che in realtà ho sempre avuto questo tratto mio personale estremamente di challenge, in cui mi sono sempre drogato di persone alle quali stavo sul cazzo. Cioè, stare con persone alle quali stai simpatico sinceramente non è divertente. La parte interessante è usare gli altri, soprattutto quelli a cui non andavo a genio, per capire che cazzo di me non andava per riuscire a migliorare me stesso e a trovare un dialogo anche con queste persone. Quindi vi ho sempre trovato un po' la versione reale di quella famosa Room of Improvement che spesso ci raccontano tutte HR, tutti questi psicologi e quant'altro, quando di fatto ce l'hai a gratis con tutti quelli. Ma da quello del mattino che ti si incazza al semaforo perché in qualche maniera, non so che cavolo hai fatto, gli hai fatto un torto e dici, ma chissà che cosa ho sbagliato, nel frattempo ti ho andato a cagare 65 volte. E poi con un ufficio dici, ok, here we go. Però ecco, nella vita è stato molto importante per me questo. Mi piace questa idea di avere intorno gente, diciamo, da utilizzare per migliorarsi. Nel frattempo, cioè, guarda Silvio, adesso io non so come tu sia messo a livello di relazioni, però ti segnalo che in chat, insomma, sono arrivati vari complimenti e vari interessamenti. interessamenti, ecco, Alexia Face dice, eccomi Silvio, sei il numero uno, io sono una sua gruppi dal 1997. Ma lei non vale, è una mia compagna delle superiori. Vi voglio un belino dell'anima, bellissimo ricordo. Ah, ok, ok. Vabbè, allora ti do Patrizia Caridi, vabbè, se vuole posso stare sul cazzo di vita, se gli lasciavo il mio numero. Insomma, hai, come dire, riscosso subito, un grande successo. Bene, bene, mi ricordi... No, no, nella mia vita sono felicemente innamorato di Giulia, ho una bellissima bambina, Luce, che è arrivata da circa 13 mesi. Ah, grande. Si è cambiato la vita, non dormiamo un cazzo, però... Esatto. ...è una persona, devo dire la cosa, forse la persona alla quale, come dicevamo prima, spero di stare più simpatico. Guarda, l'altro giorno, sai cosa Silvio, parlavo, e poi ovviamente mi interessa parlare di business, di golden goose, eccetera, eccetera, della tua attività, però l'altro giorno parlavo con un amico che diceva, è incredibile come rispetto ai figli, io ne ho quattro, rispetto ai figli la fidanzata o il fidanzato, che diventeranno marito e moglie, sia una delle persone in assoluto più importanti per tutti, perché se sposa una persona problematica o che non va bene, cioè l'impatto è su tutta la famiglia, e quindi c'è una grande attenzione, capito, a dire, ma se è una persona giusta o meno, no, no, è fondamentale, la persona che sposi è fondamentale. Sì, totalmente d'accordo, assolutamente, e non solo per quanto riguarda la gestione diciamo familiare, ma anche proprio per la gestione delle proprie emozioni, delle proprie intuizioni, perché le migliori intuizioni comunque sono quelle vere, non sono quelle studiate, e sapere che il tuo mondo, diciamo, che genera queste emozioni, queste intuizioni, che è quello comunque emotivo, quindi, a maggior ragione, la tua moglie o compagna che sia, deve essere quella persona che si prende cura di far sì che tu stia bene nell'anima, perché se non hai un animo pulito e non hai un animo positivo, difficilmente crei qualcosa che funziona. Resta un secondo su questo tema dell'intuizione, perché ieri ho avuto una discussione con una delle persone che lavorano con me, è arrivata una proposta, grossa, per un progetto, e io ci ho pensato un attimo e poi a pelle ho detto, no, c'è qualcosa che non mi torna, lasciamo perdere, e lui mi ha guardato come dire, sei fuori di testa, e anche quello che ha fatto l'offerta ha detto, ma sei fuori di testa, però la mia intuizione dice, no, no, c'è qualcosa che non va lì, ok, e chiaramente uno magari se lo può permettere in un certo momento della propria carriera, gli fa certe scelte, però che peso dai, diciamo, lavorativamente all'intuizione in un mondo che ragiona tutto sui dati, cose, statistiche, big data, analisi? Ma guarda, direi che darei un 30%, dividerei, ovviamente uno dice, sono tre punti che fanno 30, 30, 30, poi c'è l'uno che è il culo, ovviamente che è fondamentale, però diciamo l'intuizione secondo me è il 30%, la famosa, la famosa pancia, perché non è cuore, non è testa, è proprio pancia, è quella cosa a parte, come dicevi tu, poc'anzi ti viene così, la cosa che faccio immediatamente dopo, ok, è alzare il telefono e chiamare Danilo, un amico, socio di sempre, che diciamo è esattamente ciò che non è la panza, ok, ma è una persona molto cerebrale, molto severa e quindi esattamente l'opposto di me e mi faccio un po' di, così, di challenge e la terza cosa che faccio è provare a vendere quell'idea, quell'intuizione immediatamente a chi c'ho di fianco all'ufficio, chiunque passi dal cameriere al collega dello stile o al collega dell'information technology o whatever, la prima cosa che fai è che se riesci a raccontarla a una persona vuol dire che la puoi raccontare a miliardi di persone. Forte, mi piace, la sperimenterò qua a Brighton, con mio cane Bobby Biscuit, gli racconterò le mie intuizioni. Ascoltami Silvio, ma ti chiama Taylor ogni tanto? Dimmi la verità, ti telefono ogni tanto o Selena per dirti però io una scarpetta così, vorrei qualcosa, una sneaker più... Ti capitano queste telefonate oppure, oppure diciamo, non si può dire o non lo so? No, allora diciamo che in realtà per me Golden non è la scarpa o non è la sneaker ma è molto di più. Parlando appunto prima di amore, di intuizione, ci tengo sempre a ricordare che in questa azienda io non ho inventato assolutamente nulla. È un'azienda che nasce da un percorso, in realtà ha una matrice, per quanto mi riguarda, con l'azienda molto pragmatica, perché nasce da un'acquisizione di un fondo di investimento. Conosco appunto i due fondatori, Alessandra e Francesca, ma soprattutto conosco due persone estremamente innamorate tra di loro. E guarda, tornando a cosa dicevi prima, trovare ancora due persone che si amino davvero, ma veramente, non chiacchiere, cioè lavorare 20 ore su 24 al giorno per quasi 13 anni, creare un brand da zero. E poi arriva il Silvio, il fondo di investimento che si trova a confrontarsi quindi con dei parametri che non sono appunto il dato del CRM, che non è digital, che non è questo, ma è semplicemente con due persone che hanno fatto un qualcosa semplicemente con amore. Ma è enormemente rilevante. Ecco, cavolo, trovarsi davanti a una cosa del genere, prima di arrivare a Serena Gomez o a qualsiasi celebrity del pianeta, la prima cosa che loro mi segnarono, ma in me, devo dire, trovò terreno fertile, era credi semplicemente in quello che fai, perché noi ci abbiamo creduto tantissimo, abbiamo fatto un sacco di errori, abbiamo fatto talvolta anche cose giuste, ma ci abbiamo creduto tantissimo, e l'eredità nel cedere quindi la proprietà di questa azienda a un soggetto terzo, quindi questo fondo di investimento, che in quel caso poi mi vedeva nella parte di gestione del business, la parte che ho sentito più forte era quella di dire cavolo, qui ragazzi, it's not about sneakers, ma è riguardo qualcosa di molto più grande. Quindi la prima domanda che mi feci fu, tu avrai abbastanza amore per questo progetto, uscire a deliverare l'ambizione che hanno questi ragazzi? E in realtà la risposta non ce l'avevo. E tornando a quello che dicevo in Incipit, tutta la mia squadra, tutta la nostra azienda ci ha permesso di crescere questo amore, e oggi Golden, mi piace sempre ricordarlo, forse è veramente un brand of love piuttosto che un brand of sneakers, perché tutta la nostra gente è veramente innamorata di noi, incluse anche quelle celebrity che tu citavi, e moltissime altre che pensa, di fatto poi io ho conosciuto quasi sempre, per caso, girando le nostre botteghe, penso ancora a DiAngelo Hopkins, che è il più grande receiver di NFL, era a Parigi, si stava provando due sneaker, io nasco come commesso, quindi ce l'ho proprio nel sangue, che ogni volta che provo qualcosa devo andare lì e vendergli era perché sennò sto male, ok? Gli avevo raccontato, devo dire un pezzo in più, e così mi fa, hai detto, ma by the way, tu cosa fai? Mi fa, ma guarda, io sono semplicemente il più grande receiver della NFL, purtroppo caschi male, perché io c'ho solo un amore, da quel punto di vista che si chiama Ferrari, oltre a questo non è che ne capisca molto, però ti credo, da lì poi in realtà è stata una bellissima amicizia che è nata, ho fatto già due Super Bowl con lui, ma dai! Sì, devo dire, molto molto bello, per amore, non per prodotto. Scusami Silvio, ma in questi casi, sul tema dei personaggi famosi, i rapporti sono solo rapporti commerciali dove quindi tu vedi la Taylor Swift di turno che mette le scarpe, oppure semplicemente decide Angelina Jolie, gli piacciono le scarpe, se le mette su si fa una foto su Instagram e dice che figata è questo, cioè esiste ancora questa parte? Quando tu parlavi stavo pensando alla mia PR, che poverina, dal giorno che l'abbiamo assunta ha detto, mi raccomando, non dare mai un cazzo a nessuna celebrity. Veramente? Ti giuro, e tu devi fare un altro mestiere, devi riuscire a raccontare la nostra storia, che è complessa, perché raccontare una storia d'amore è molto più complesso che raccontare una scopata, è molto più complesso, quindi da questo punto di vista, tornando alle celebrity, semplicemente vanno in negozio, se le mettono, sono felici di far parte di noi, talvolta ci scrivono, ma più di questo sinceramente non mi interessa, perché per me è davvero obsoleto pensare che esista una celebrity, cioè ognuno di noi ragazzi è rilevante, non importante, perché il concetto di importante è veramente anni 90. Per me il concetto moderno è davvero di essere delle persone rilevanti, in che modo? Anche la mia fidanzata che la notte si sveglia cinque volte perché mia figlia non riesce a dormire, per me fa una cosa di un rilevante enorme. Io che quando lei è stanca cambio i pannolini come se fosse cintura nera di pannolino, sento di fare una cosa estremamente rilevante, non sicuramente facendo semplicemente dei grandi fattuati con God in Good. Però, diciamo, a livello di comunicazione è chiaro che se, che ne so, Jay-Z dice che questa tazza è bellissima o che il pelato di Brighton è un figo pazzesco, è ovvio che c'è un impatto, no? Sul business, sulla venita. Però non è una parte di comunicazione che seguite voi, no? No, no, non ci crediamo affatto, sono tutte fiammate, non ci crediamo perché sicuramente, con tutto rispetto per dei mostri tipo Jay-Z, Kanye West, che ragazzi, che devi dire, sono fantastici, dei mostri di comunicazione, il problema è che si perde di vista lo scopo e secondo me questo nella vita è fondamentale, sia come persone che come leader comunque di un collettivo, come quando appunto sei un amministratore delegato, ritengo che sia importantissimo non perdere mai il focus. E il focus di questa azienda è raccontare una storia d'amore. Non avrò 40 milioni di follower, ne abbiamo circa 700 mila, ma ti assicuro che quanto sono innamorati di noi quei 700 mila, nessun brancherà. E sai perché? Perché tutto questo si è creato in più di vent'anni, si è creato lentamente. Anche questo concetto della conversation, dei social, è tutto giusto, ma non dimentichiamoci che sono dei tools. Il modo in cui tu li utilizzi è quello che fa la differenza. Non è che tutto quello che abbiamo vissuto tu nella tua infanzia, io nella mia infanzia e tutte le persone nel mondo che oggi utilizzano questi social sia da buttare nel cestino. Ritengo invece che ci sia un livello di profondità dal quale noi arriviamo che dopo l'enfasi della novità del social debba portare anche tutto ciò che i nuovi tools di comunicazione a un livello superiore che è quello di un aspetto più di qualità della comunicazione e non solo della quantità. Assolutamente no, concordo. Volevo scusami tornare, Silvio, un secondo a quando sei entrato in Golden Goose. Peraltro operazione, adesso non so se il dato sia pubblico, io ho visto qualche numero, ma insomma operazione Cina non da 100.000 lire, ecco non so se si può dire il dato, però è stata un'acquisizione rilevante, soprattutto per un'azienda italiana, adesso non so quante startup abbiano fatto una vendita di questo tipo. Mi permetto di dire su questo, siamo molto orgogliosi perché di fatto escludendo eventuali IPO, quindi quotazioni in borsa, di brand moda, Golden Goose è di fatto l'operazione di buyout, quindi di vendita tra fondo a un altro fondo, compiutasi in Italia e non solo, più grande in assoluto e di sicuro più grande del 2020. Quindi se pensiamo anche, facciamo un perimetro dell'anno, se vuoi ancora del valore in più. Certo, soprattutto in un anno così molto complessa. Ma dimmi una cosa, scusami, quando entri in un'azienda, anzi ti faccio un passo prima, tu che esperienza avevi prima, pre-Golden, che cosa facevi? Ma di fatto ho fatto un po' quello che è il percorso tipico di un commerciale, appunto dopo gli studi universitari, tra l'altro nella severissima e drittissima Bocconi, io c'avevo però sto fuoco dentro, pensa nel frattempo facevo il cameriere e i Savini. Ma esiste ancora Savini a Milano? Non è più quella roba vecchia nella quale mi piaceva lavorare a me, perché a me in quelle cose lì mi piacciono le cose vecchie, quelle cose in cui c'era ancora la posata d'argento, c'era ancora da passare con aceto e limone la sera prima di tornare a casa alle due del mattino, tutta l'argenteria e via dicendo. Però ecco anche in quelle cose lì ho imparato tantissimo, se vivi l'ingegner Beltrami che aveva 120 anni, che voleva il riso solo in quella quantità, in quel modo e tutto, e anche questo io lo adoravo. In generale ecco, ho una vita che è stata assegnata dagli altri, mi sono sempre speso tantissimo per gli altri, prima appunto come commesso, ho avuto la fortuna di poter lavorare in una startup bellissima che si chiamava Alexander McQueen e che oggi appunto è una grandissima brand conglomerato del gruppo Kering, a quel tempo era appena nato, eravamo 36 dipendenti e forse solamente quando arriveremo poi al punto finale capirai anche tu perché è stata così importante, ho avuto una capa pazzesca perché io arrivavo un po' numerico, un po' così sai economista, bocconiano, via dicendo, però con questo fuoco appunto di imparare un sacco e c'avevo una capa che era una sarta, era la direttrice del negozio e quindi mi insegnò tantissimo dal punto di vista proprio del prodotto, cos'era una battitura a tre aghi, a due aghi, cos'era una mussola, cos'era un cotone, cos'era la lana e via dicendo. Che cos'è la battitura a tre aghi? Questa sembra togli la cera, metti la cera, che cos'è? No, no, in realtà queste cuciture che tu vedi nella tua felpa, via dicendo, ce le avrai probabilmente ad ago singolo, poi magari ci sono delle macchine a cucire che fanno delle battiture diverse a seconda di quanto è più o meno resistente un tessuto, no? Perché se il tessuto è molto leggero non puoi mettere solo una cucitura, quindi ha bisogno di essere un po' più. Ok. E poi da lì tramite diciamo varie vicissitudini finisco nella colossale, grandissima Giorgio Armani, un'azienda che per me è stata importantissima, ho davvero un ricordo bellissimo, di nuovo quello che sarebbe stato il mio capo, caro Andrea Paoluzzi, che saluto tantissimo, che oggi è presidente di Armani Exchange, all'interno ancora di Giorgio Armani, nella quale ti conoscono, non si sa per quale motivo, come dicevi tu prima, intuizione, e dicono ma va a testa, faccia qua, sto qua secondo me c'è i numeri per fare quella cosa, che tu nemmeno lo sai. E questo è molto importante nella vita, avere qualcuno che riesca... Che ti scopre in un qualche modo, sì. Esatto, ma la cosa bella è che non ti passa tutta la giornata a riempirti il cervello che sei il numero uno, no, no, capisci che hai intuito qualcosa in te, ma ti fa evolvere piano piano, perché questo è anche importante, non puoi... E quel piano piano per me è significato circa sei mesi con la mia 1.9 JTD in giro per il nord-est d'Italia, per Armani jeans, andare da questi retailer perennemente incazzati, ma perennemente felici, non capivo mai niente, cioè, in un momento incazzati, ma poi in realtà facevano un sacco di milioni perché ti diciamo che avevano venti appartamenti, tutta una roba incredibile. Morai della favola, per circa sei mesi, era un giovedì, me lo ricordo ancora, il mio capo venne da me e mi disse, guarda che lunedì vai a Hong Kong, ho detto, in che senso? No, vai a vivere. Ah, veramente? Quindi, andai a casa... E in questo, scusa se ti interrompo, ma in questo con il signor Armani, perché non so, tutti lo chiamano sempre il signor Armani, eri in contatto ogni tanto, lo vedevi, che poi mi dicono, lavori ancora sempre, sia attento a tutto, sempre super a su pezzo. Beh, lavorare in Giorgio Armani e pensare di non incontrare mai il signor Armani è impossibile, perché il signor Armani è il più grande lavoratore della Terra, lui è... Quindi lui è sempre lì, non è leggenda. In questa destinazione, numero uno, numero uno, anzi, internamente la parte business lo chiamava proprio il presidente, cioè per noi era proprio il presidente, ma è una persona ragazzi, adesso non voglio fare dei comianti inutili, perché tanto lo sa tutto il mondo chi è il signor Armani. Ok, ma in timorità, cioè averlo davanti, perché è uno che è, come dire... Hai usato la parola giusta? Pazzesco, si vede, l'hai incontrato tu per caso? Ma hai incontrato. Ma hai usato la parola giusta, perché nonostante non sia esattamente l'uomo di due metri e venti, o particolarmente loud, perché è una persona molto semplice, ragazzi, ti giuro, io ho ancora questa scena in testa, ero... stavo facendo l'area manager, quindi vendevo al tavolo, ok? Questa volta non ai clienti finali, ma appunto a dei commercianti, ragazzi che tu ci creda o no, Marco, a un certo punto dissi, ma che cazzo c'è? Mi girai ed è rientrato il signor Armani dentro la showroom. Cioè, ha un tale carisma che tu, senza vederlo, è pazzesco. E quello che ti dà è un grande rispetto, cioè ti incute rispetto e dall'altro appunto anche timore, perché comunque, ragazzi, c'ha due occhi che sono dentro, mamma mia. Grande persona, grande, grande persona, però purtroppo non avevo questa fortuna, io ero destinato, come ti dicevo, a mangiare zampe di gallina, a mangiare le cose più incredibili, anche se poi in realtà a me piace un sacco, perché comunque mangiare vuol dire anche capire della cultura dove vai, ma in realtà poi avrei scoperto che non era solo Hong Kong, appunto avrei avuto casa anche a Tokyo, che sarebbe stata probabilmente l'esperienza più difficile in assoluto della mia vita, perché sono davvero, davvero, davvero molto diversi da noi, ma molto diversi. Da te che dopo quasi quattro anni di quella vita, dico sempre, sarebbe bello che un giapponese passasse quattro anni in Italia, che un italiano passasse quattro anni della sua vita in Giappone, perché c'è sicuramente molto, molto da imparare da entrambe, sta di fatto che a un certo punto, dopo aver aperto più di 90 negozi da da Urumuchi a Dardin fino a Melbourne, passando... Aspetta, 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 già aprirne uno mi sembra complicato, come si fa ad aprire un negozio in Giappone? Cioè vai lì e che cosa fai? Che cosa hai fatto? Come si fa ad aprire? Giappone è assolutamente, insomma, una macchina da guerra da quel punto di vista, è un'azienda che ha dei partner, con i partner locali che quindi ti aiutano a bypassare tematiche culturali da un punto di vista anche legale, da un punto di vista di feasibility, no? Della messa a terra appunto di un negozio. La parte più importante, diciamo, di un manager lato brand è quello della apertura in maniera sinergica a quel tempo, perché la Giappone aveva sette brand, quindi con tutti gli altri brand, e sinergica soprattutto poi alla penetrazione geografica e al modo proprio che ha il brand di riuscire a servire poi il consumatore. Stiamo parlando dei primi anni 2000, quando la Cina era ancora una Cina preolimpica, che per noi, diciamo, del settore dividiamo proprio una Cina preolimpica e una Cina postolimpica, perché cambiò completamente tutto, cioè è un governo così fuori da qualsiasi senso per noi, che si è messo in testa in 15 anni di trasformare i cinesi in giapponesi, cioè tutti precisi, tutti perfetti. Oh ragazzi, nel 2008 io ho assistito a delle scene dove li mettevano in piazza e dicevano se tu provi a sputare ti prendo abbastonate e ti giuro oggi tu vai a Shanghai, a Pechino, ti sembra di stare, non lo so. L'ultima volta sono stato a Shanghai, un paio di anni fa, cioè New York. No, molto meglio, molto meglio. No, no, ma dico, super avanti, super avanti, peraltro super sicura, almeno la mia percezione era molto così. Diciamo che le pene sono certe, ecco mettiamo così. No, no, certo, poi possiamo mettere nel merito della tipologia di governo cinese, questo è un altro discorso, però diciamo a livello di funzionamento funziona. Ma ok, quindi 90 negozi, a quel punto sei tornato indietro. Esatto, a quel punto lì no, sai che cosa è successo? Attimo famoso di intuizione, quello di cui si parlava all'inizio, e ho detto, Silvio ma che cazzo stai facendo? Cioè stai facendo 200 voli all'anno, guadagni un botto di soldi, hai neanche 30 anni, fai una vita che neanche mai l'avresti sognata. Ma tu come stai? Come ti senti in questa cosa? E mi resi conto che, in questo mi piace sempre ricordarlo perché ci tengo tanto, perché sono legato comunque anche alle mie radici, sono un po' veneto, ok? Il fatto proprio mi è mancato il fatto di creare valore. Forse l'unico lack, non della Giorgio Armani, ma delle aziende di come erano impostate, e poi diventerà, come ti racconterò in seguito, forse la mia più grande ossessione, mi resi conto che io facevo già parte di un mondo di manager che non erano vocati all'Ebidda, non erano vocati al fatturato, ma erano vocati al concetto di valore, che a quel tempo ti assicuro era super astruso. Cioè tu parlare a gente di valore, ma che cazzo stai dicendo? Che succede? Spippolando un po' su internet e quant'altro, vedevo questa operazione tra Carlyle e Moncler succedere, quindi Carlyle per chi non lo sapesse è uno dei più grandi fondi di investimento al mondo, aveva fatto questa bellissima operazione appunto con Remo Ruffini su Moncler, era quindi l'inizio forse più eclatante dell'ingresso di queste entità portatrici di pragmaticità e di progettualità all'interno di entità come quelle della moda, dove la progettualità è spesso limitata all'aspetto creativo o di prodotto, ma mai a un punto di vista strategico long term. Perché, come sicuramente qualcun'altro ti va raccontato in qualche altra intervista, è un po' sostanzialmente la differenza tra gli italiani e i francesi. Cioè i francesi sono strategici, ma ha voglia di essere strategici. Tutti i brand che loro gestiscono non hanno il fondatore, il proprietario dentro. Noi italiani abbiamo il signor Armani, Giorgio Armani. Certo. Non abbiamo il nostro liste. In Moncletto abbiamo Ruffini, che comunque non l'ha creato prima. Brunello, Cucinelli e via così insomma. Cioè tu non puoi pensare in questo momento di immaginarti Dolce Gabbana senza Dolce Gabbana, non può essere. Però scusami Silvio, scusa la mia ignoranza, ma Valentino invece è uscito, o sbaglio? Assolutamente sì. È uscito. Ok. E infatti fa parte di un fondo. Ok. Non è un'azienda che cammina con le sue gambe. E quindi, o meglio, assolutamente come cammina per le sue gambe, ma ha dietro comunque un'organizzazione che ne ha assicurato la, diciamo, la successione, no? Che tra l'altro è di grande successo. Quindi un altro esempio come appunto tu riporti di grande successo. Ecco, Golden, e qua arriviamo poi a noi, arriva come? Arriva quindi da questa intuizione in cui dico, ragazzi, io devo generare valore esistono questi fondi, quindi che comprano questi brand, e mi imbatto in questa Roberta Benaglia. Questa Roberta Benaglia. Di nuovo avrebbe cambiato la mia vita in maniera totale. Sempre donne, eh? Sì, sempre donne cambiano la tua vita, noto. Ok. Guarda, questo tornerà, perché poi te ne racconto una in merito a quale. Che succede? Conosco questa Roberta Benaglia, dicevo 30 anni, dai 34, era capa di un fondo di investimento, cioè tu immagina, 34 anni, eh, donna, una bellissima donna, con quattro palle sotto così. Amministratore delegato di questo fondo, per carità, non enorme, ma comunque per me, che cominciavo, già un fondo di 100 milioni, mi sembrava una roba, 100 milioni, cifra enorme, e via dicendo, che aveva appena acquisito questo brand, eh, che secondo me era fantastico, si chiama Sandec, conosciamo più o meno tutti, i costumi da bagno con l'arcobaleno dietro, e dissi nella mia testa, beh, cazzo, ma è una figata, cioè, è comunque un brand vintage, c'è comunque da 60 anni, il prodotto c'è, il fondo di investimento c'è, e via dicendo, ma sai che c'è, io lascio tutto e vado in questa azienda e vediamo di diventare un imprenditore, no? Quindi, abbandono i mega viaggi, casa Hong Kong, casa Tokyo, il network più pazzesco del mondo, perché figurati la Giorgio Armani, che razza di network ti può offrire, è una cosa incredibile, ho conosciuto delle persone eccezionali, e vado a Campi di Bisenzio, ok? Quindi, di fatto c'erano sempre i cinesi, perché a Prato, insomma, c'è, penso, la più grossa comunità. Infatti stavo per chiederti, Campi di Bisenzio, la mia geografia non mi permette di sapere dove fanno. Ok, Prato. Vado a Prato, quindi da Tokyo a Prato, e di base, dentro, dentro. Da Tokyo a Prato, Silvia, è un salto cosmico da Tokyo a Prato. Però mi credi, ero così lucido, in quello che vedevo, nella mia testa, cioè, avevo le idee così chiare, nel sapere che dovevo cambiare da manager a imprenditore, tra l'altro un imprenditore diverso, manageriale e finanziario, ok? Che non vedevo l'ora di avere questa sfida, che era pagata un terzo di quello che guadagnavo prima, non c'era nessun tipo di glam, ma il glam vero per me era ficcarmi dentro un'azienda, comunque padronale, perché comunque c'era detto... Traduci glam per persone normali. Beh, glam te la potrei tradurre in... Non c'era niente di particolarmente figo, insomma, una cosa che c'era. Non è la moda per come ce la immaginiamo, anzi, molto, se vuoi, consumer, molto commodity. Però, se uno mi dovesse chiedere davvero qual è il tratto della mia vita, che è stato più determinante, sarebbero stati poi quei tre anni e mezzo passati appunto in questa Sandec. Perché? Perché, e questo ci aggancia a quello che secondo me, lato manager, e anche come lato persona, è quello che fa la differenza nella vita, ragazzi ho passato tre anni e mezzo non di merda, ma una cosa, cioè... Era l'azienda perfetta perché aveva tutti gli errori possibili. Ok. E quindi, lavorare in un ambiente in cui le persone non sono solidali, il prodotto è sempre quello, non riesce a trasformare, a fare una cosa in più. Diciamo il cash flow, per come lo diciamo noi manager, quindi per spiegarlo alle persone, di fatto il cash flow è... L'entrata, il grano che entra ogni mese. Il grano nelle tasche, esatto. Era leggermente dilatato, cioè tu spendevi i tuoi primi sonnini per una lettera di credito per pagare il tuo fornitore cinese o vietnamita diciamo a gennaio, bene, tu riprendevi i denari investiti a gennaio più o meno tra l'intorno di ottobre e novembre. Nel mezzo, ragazzi, c'era tanta di quella creatività, ma non creatività di prodotto, creatività davvero da imprenditore. Cioè, ho avuto dei mesi in cui non mi sono neanche pagato lo stipendio per pagare i ragazzi, perché avevi deciso di fare l'investimento di quel negozio a Saint-Tropez, che comunque avevi dovuto pagarlo il fornitore che ti ha fatto il negozio, per pagare quello, magari non ti pagavi lo stipendio, ma facevi in modo insomma che i ragazzi potessero invece non accorgersi di nulla, perché tu ogni giorno dovevi dire che eravamo i numeri uno. Certo. Perché sai, i soldi possono mancare, ma se il morale va a terra, finisce tutto il gioco. E nonostante ciò, comunque, fu una storia bellissima, perché da circa 16 milioni passammo a quasi 25 milioni. Fu l'occasione, non solo per conoscere Roberta, ma anche il mio carissimo amico Davide De Giglio, che anche lui arrivava da un periodo difficile della sua vita, ci incontrammo tutti quanti assieme, poi sarebbe stato il cofondatore di New Gas Group, di Off-White, un altro brand che nel mondo contemporaneo ha saputo raccontare qualcosa, secondo me, di molto importante. Ed è bello sempre ricordare che da un progetto così difficile, poi sono uscite due storie così belle, appunto, da un punto di vista manageriale, come lui, appunto, su Off-White, è sottoscritto poi su Golden Goose, che nasce come? Nasce, di nuovo, grazie a questa Roberta Benaglia, ok? Quindi è sempre stata lei che ti ha connesso su questa opportunità. Sempre questa Roberta Benaglia, esatto. Che mi dice, una matta, eh? Guarda, un giorno secondo me la dovessi intervistare, perché è pazzesca lei, eh? E a me praticamente, a di là delle facce ribattute, è davvero una donna con le palle. E quando dico così, non è una donna, cioè una non donna, è assolutamente donna, ma, diciamo, ha un forte ascendente pragmatico. E nell'arco poi, quindi di questo percorso, uno dice, ma quindi hai lasciato Armani che volevi fare valore, sei andato in Sandek e da quello che tu ci dici, non è stato, esatto. Non è stato, perché creare valore poi, in termini finanziari vuol dire, comprare un'azienda a un valore e rivendere quell'azienda a un valore evidentemente maggiore, avere una plusvalenza e prendere una parte di quella plusvalenza, eh, come da accordi. In Sandek non è successo, ecco. E torna questa Roberta Benaglia e mi dice, dopo avermi proposto questa Sandek, mi fa, guarda Silvio, avrei questo progetto che si chiama Golden Goose. E io la guardo e dico, oh, ma i soldi ci sono? E da lì, eh, torniamo appunto al punto iniziale, mi presenta appunto Alessandro e Francesca, i due fondatori, e da lì il resto è storia, insomma, fu amore a prima vista, eh, come tutte quante le grandi storie d'amore, anche quelle allargate, perché quindi la loro strada d'amore iniziava ad essere la strada d'amore, eh, allargata e sottoscritto, a Danilo, a Sandro, che sarebbero stati poi i miei amici soci che con me hanno affrontato questa bellissima storia a partire dal 2013, quando ci fu l'acquisizione, per 50 milioni di euro, e giusto per parlare di cifre, appunto, dopo sette anni l'abbiamo ultimamente diventata per un miliardo e tre, e quindi devo dire che è una storia veramente molto bella. Era il numero che dicevo, c'è un leggero, una leggera plusvalezza lì, quindi, no, sono numeri, insomma, notevolissimi, che non li senti, non li senti dire in giro, sono numeri da unicorn della Silicon Valley, quando dici, ecco, hanno fatto, hanno venduto per un billion, in Italia è difficile, è difficile sentirli, ecco. Ascoltami, c'è Chiara Bognolo, che dice, feci un colloquio con Silvia un paio di anni fa, negli uffici di Golden Goose, a Marghera, non so, dopo averlo contato su LinkedIn, super umano, è piacevole, spero di avere occasione di incontrarlo di nuovo, però capisco che non l'hai presa, è rimasta piacevolmente soddisfatta, però capisco che non è andata bene, se no, direbbe lavoro adesso per lui, capito? Quindi anche se una non la prendi, ugualmente sei simpatico, non vale, basta, cioè. No, ma guarda, è solo per un motivo, in realtà, vorrei correggere un pezzettino di quello che hai detto, noi non assumiamo nessuno, noi, nuovamente, accogliamo persone nel nostro collettivo, e ci tengo tanto a dire questo, non per essere prosaico, però, o nella testa, so che quella persona potrà crescere con noi, ma assumerla per fare un lavoro, può andare benissimo in mille altre aziende, perché la golden è molto di più di un lavoro, e questo fa un po' da introduzione a un passaggio fondamentale a quello che tu dicevi all'inizio, storicamente ti dicono sempre, guarda che il lavoro è lavoro, la vita è vita, per me è una boiata incredibile, non è vero, secondo me invece il lavoro è vita e la vita è lavoro, assolutamente, perché noi siamo lo specchio di quello che viviamo fuori dal lavoro e a casa siamo lo specchio di quello che viviamo al lavoro, quante volte ognuno di noi siccome si trova male al lavoro torna a casa sempre incazzato, sempre con rosco ingoiato, gestisce male anche la sua relazione con i partner, magari con il figlio e quant'altro, quindi se è vero che c'è una responsabilità dell'ambiente aziendale nei confronti delle famiglie, credo che anche al contrario ognuno dei diciamo dei dipendenti di un'azienda ha l'onere e diciamo il dovere di svolgere una vita personale al pieno delle sue possibilità, perché così potrà essere di successo anche sul lavoro, perché se noi cerchiamo i compromessi a casa, li cercheremo anche al lavoro, e questo non va bene, non va bene. Una cosa Silvio, aiutami a capire, tutte le aziende, se vai a fare un colloquio, diciamo, quasi tutte, soprattutto negli ultimi anni, si vendono come il posto fighissimo, i grandi valori, l'etica, l'attenzione, siamo una grande famiglia, namo famo, e poi nella verità dei fatti, nella maggior parte dei casi, non è così, cioè entri in un'azienda e poi gli interessa solo vedere alla fine della trimestre com'è l'utile o com'è l'ebitda, però ci sono altre aziende e tu sei un caso, che invece riescono a trasformare queste belle parole in una realtà, no? Poi, vissuta tutti i giorni, c'è una cultura aziendale vera che porta avanti dei valori. Com'è che si fa a fare questo passaggio? Cioè, qual è la differenza secondo te per riuscire effettivamente a creare delle realtà che abbiano all'interno poi un valore non solo economico ma anche di qualità per tutti quanti? bellissima domanda sono felice che tu me la faccia perché l'ho vissuta sulla mia pelle prima come diciamo parte di un team e oggi come leader di un team e partendo dal concetto che nella vita credo che tu voglia per gli altri tutto ciò che vorresti per te stesso ok? Bene, nella mia vita ho sempre immaginato un mondo in cui quindi proprio un mondo che non fosse solamente quello aziendale ok? Proprio un mondo anche all'esterno in cui la parola chiave fosse gentilezza un mondo in cui non vincesse il bullo un mondo in cui vincesse chi se lo merita un mondo in cui anche chi non ha vinto comunque ha avuto modo di avere voce un mondo in cui non c'erano le razze un mondo in cui non c'era uomo o donna non c'era genere di ogni tipo beh ma sai che avendo viaggiato tanto ed essendo una persona molto intensa io mi reputo intenso per me nulla è banale nulla è a caso in ogni cosa ci vado fino in fondo con il cuore con la testa beh quando mi sono ritrovato a essere leader del nostro collettivo questo è stato esattamente quello che mi ha ispirato e oggi sono sincero saremo esattamente come ce l'avevo in testa mai perché se no sarei potrei dirmi tra virgolette terminato in realtà penso che possiamo ancora fare molto meglio perché la società fuori da questa azienda sta evolvendo tantissimo e quindi noi possiamo evolvere con essa una grande opportunità però per dare quindi la risposta dopo questo preambolo la tua domanda è ci devi credere Marco ci devi credere non è un business il fatto di essere leader di persone è cosa da persone non è cosa da slide di powerpoint quindi ci deve essere prima di tutto una onesta presa di posizione di quel leader al quale insieme a degli shareholder o gli investitori o quant'altro chiedono di avere un'azienda come dici tu appunto inclusiva diverse socialmente diciamo rilevante beh la prima domanda che mi farei da leader è ma io ci credo o devo farlo perché se devo farlo non ce la farò mai perché tu non puoi fare niente con le persone tu con le persone puoi solamente creare ed entrare proprio dentro le loro anime e se come leader non sai fare questo non sei un leader ma sei semplicemente una comparsa mi piace tantissimo quest'ultimo te la ruberò per farci un video questa frase diranno mamma mia che bella frase un signor leader è una serie comparsa e tu amonti la frase sì invece era tua Daniele Grassi ti chiede a questo punto sono curioso di sapere come si svolge un colloquio in Golden Cusa anch'io sono sono curioso cioè fate mi racconto il mio o quello di iniziare tutti e due cioè come funzionano i colloqui il tuo come ha funzionato immagino a chiacchierare con i fondatori che quindi non è mai facile immagino come li faccio io dico perché è molto diverso secondo me ok ok vai entrambi entrambi abbiamo Nei Ciar Nei Ciar che è bravissimo che saluto peraltro Ferdinando che tanto pensa si chiama Speranza di cognome l'ho preso per questo esatto solo per il cognome ma vuoi di più di un capo che si chiama Speranza di cognome fantastico no cioè che gli devi dire se ti dice di no nulla no in realtà pensa normalmente il colloquio funziona come un patibolo ecco credo che credo sia Luca Grassi credo il ragazzo Daniele Grassi Daniele Grassi ecco credo che più o meno il 99% di noi che hanno dovuto subire un colloquio lo vivevano appunto ma come mi dovrò vestire ma ci avrò il trucco giusto ma che parole devo dire sarò troppo sarò troppo poco sarò interessante cosa ho messo sul curriculum ho messo che ho fatto il boy scout oppure no cioè sono abbastanza politically correct oppure tutte stronzate pensa io il curriculum manco lo guardo cioè proprio zero niente la prima cosa che faccio oggi è innanzitutto credo tantissimo nel passaparola perché credo che tornando al mio punto di prima se una persona ha fatto bene nella vita difficilmente le persone non ne parlano bene e quindi già quello ti screma una marea di wannabe wannabe candidati seconda cosa spesso vado anche su linkedin a trovare delle persone in base a quelle che sono un po' le pensate che ho in testa e spesso sono anche molto diverse da quello che uno potrebbe pensare relativamente alla moda perché mi piace più il mondo che una persona si porta dietro che non la professione e questo poi sarà un tratto importante per un'altra cosa che ti racconto in merito ai nostri negozi e arrivati poi quindi a entrare nella mia stanza la prima cosa che trovano è una persona che si alza va da loro non gli stringe la mano ahimè adesso con il covid è così ma gli batte immediatamente i 5 in questa maniera e dice ciao grande come stai questo è il modo in cui io do il welcome a una persona già lì al contrario dicono minchia ma lo conoscevo già questo è quello che penso una persona da altra parte si siede perché io sono molto fisico anche come questo da venditore amo l'abbraccio tutte queste cose quindi covid è stato un disastro mi sono rinascato e si siedono e normalmente gli chiedo proprio la primissima cosa da dove vieni la prima cosa e loro normalmente mi dicono il nome o la storia dell'azienda da cui in cui stanno lavorando io dico no scusa non ti ho chiesto questo ho detto da dove vieni ma in che senso da dove vieni proprio qual è la tua città di nascita e uno dice ma quale sarà mai l'importante no in realtà per me è importante perché nella mia testa ho imparato che il luogo da cui vieni ti descrive anche poi quello che è stato il tuo percorso no perché per quelli come me ad esempio che vengono da i piccoli paesi di campagna perché io vengo da un piccolo paese di campagna vicino a Verona Lugagnano di Sona ci tengo sempre a ricordarlo 6.000 persone in realtà la figata qual era? sono nato là ma avevo l'ambizione di New York era pazzesca questa roba io non lo sapevo però sentivo dentro di me che quel posto non mi bastava ecco io vedo un sacco di persone che vengono ai colloqui che ci hanno dentro quella grinta che vengono dalla provincia io sono un grande fan della provincia che ci hanno questa voglia di spaccare ci hanno questa voglia di emergere sana che si portano dietro da quando avevano sei anni quindi tu immagina che figata è per me portarmi dentro una persona che ha avuto grazie a Dio una marea di aziende che gli hanno solo fatto fare un lavoro e poi arrivano da me che invece li faccio esprimere come persone e quindi più vedo questa carica della persona che è meno legata al lavoro che dovranno fare perché per me se è arrivata in mio ufficio o di che brava a fare quel lavoro lì ma la differenza la farà che caratura di persona sei perché non basta che sia solamente Silvio il leader in un'azienda che oramai ambisce al miliardo di fatturato e non solamente a un miliardo di valore che ambisce ad avere un business per sempre a raccontare una storia per sempre deve vivere di tanti leader non ce ne può essere solamente uno perché questa storia va portata avanti e quindi rispondendo appunto a Daniele il mio colloquio funziona proprio così cercando di capire chi è la persona davanti poi capito quello cosa faccio vado subito al sodo e dico senti io ci avrei in testa stiamo assumendo un retail faccio un esempio il retail per me è questo tu come la vedi e quindi voglio subito vedere la reazione della persona in base allo scopo per il quale lo sto lo sto intervistando e normalmente diciamo funziona dimmi speranza come fai i colloqui perché tu chiaramente sei il capo supremo e poi hai grande libertà di manovra e invece speranza peraltro in chat un genio mi ha detto io mi chiamo guadagna di cognome sono già assunto assolutamente ne ho uno bravissimo però chi lo sa per qualche filiale chi lo sa lo mando in Giappone così faccio fare un po' di vita in Giappone senti no Silvio invece abbiamo ancora otto minuti e volevo chiederti miliardi di cose ma siamo andati lunghi ero curioso di capire invece più sul mercato quali fossero la tua visione rispetto a questo momento storico covidoso pandemicoso eccetera eccetera qual era la tua valutazione proprio così ognuno la vede in modo diverso e poi ero curioso invece nel tuo settore quali fossero i trend principali che vedevi a prescindere oltre a tutta la parte valoriale che mi è chiara proprio il mercato come si sta muovendo beh allora di nuovo ci sono due traiettorie che sono quella diciamo proprio prettamente di mercato e poi quella del come scaricare a terra qualsiasi strategia di mercato allora diciamo che in un mondo pre-covid la cosa più importante erano le famose 4p no quindi il prodotto che senza prodotto andavi da nessuna parte i place quindi il luogo in cui tu svolgevi quindi questa vendita del prodotto la promotion quindi come tu lo raccontavi questo prodotto e poi i price ecco quello che mi diverte sempre raccontare è che da queste 4p che sono un po' la base del marketing per chi comunque è un po' del settore ritengo che ci sia la quinta p che sia stata quella che farà evolvere alle 4c cioè la people quindi la società che ci circonda e il cambiamento che i covid ha solo accelerato non l'ha portato l'ha solamente accelerato era già in corso ci tengo sempre a ricordare questo sarà un mondo in cui il nuovo il nuovo prodotto sarà il consumatore il nuovo prezzo sarà la considerazione tu oggi non pensi più ma quanto costa quella sneaker oggi quello che tu pensi è ma vado a farmi weekend a Dubai o mi compro la sneaker vado mi compro il telefono o mi compro la tv cioè oramai così funziona nella testa vai per considerazione no? non esiste più la promotion e quindi il marketing esiste la conversation cioè in un mondo che non approssima più alla geografia non approssima più al canale ma oggi è un mondo che grazie alla tecnologia parla con te noi due stiamo parlando noi due non c'è la tv non c'è la produzione non c'è la sceneggiatura non c'è basta non c'è tutta questa intermediazione ormai è diretta questa conversazione le aziende i brand non possono più essere intermediati da nessuno ma devono avere la coscienza di avere qualcosa da dire a questo consumatore e questo ti fa quindi immaginare quanto io sia felice di questo covid da un punto di vista business perché sicuramente da un punto di vista tecnicamente EBITDA fatturato è un anno in cui chiudiamo assolutamente bene perché anche qua saremo unicorn e saremo in pareggio con il 2019 quando il mondo è tendenzialmente a meno 30 quindi è come aver fatto un più 30 ma la cosa che mi eccita di più è che io esco da questo covid fortissimo perché quello che gli altri hanno capito con il covid e quindi stanno iniziando a fare io l'ho iniziato a fare tre anni fa in maniera organica e oggi io ce l'ho già quello che le altri competitor iniziano assolutamente a pensare cosa intendi che hai già che cosa hai già pronto io le persone ah ok ok quindi ti sei già organizzato ti sei già strutturato per avere le persone tu proprio immaginati è un'azienda di 6.000 dipendenti ok che vengono da 30 40 anni 20 anni di mondo analogico come cazzo fai a dirgli che mondo c'è digitale loro ce la metteranno tutta ma quando sei in Golden Goose dove il 66% dell'azienda ha meno di 30 anni ma io ho già vinto in partenza poi le mie minchiate le farò perché di errori ne fai un miliardo ma abbiamo una tale capacità di scaricare a terra di essere veloci dove per me sbagliare non costa nulla tanto il mio competitor il tempo che io sbaglio 5 volte arrivo al prodotto perfetto è ancora là a fare la prima riunione capito quando dici messa a terra quali sono secondo te dei buoni suggerimenti per chi ci sta guardando ascoltando per per eseguire perché spesso uno ha delle bellissime idee molto creativo magari è un team anche forte hanno un prodotto però l'esecuzione poi è lenta o approssimativa quali sono in base alla tua esperienza dei consigli che ci possiamo portare a casa allora do tre consigli al numero uno trovatevi un team della madonna di tutte le persone molto più brave di voi al numero due sappiate sempre non fare mai quello che volete fare voi ma quello che serve al mondo esterno a voi numero tre credete nelle vostre intuizioni questa però non vale Silvio sembravamo preparati su questa domanda e risposta invece non è vero invece tu non la sapevi quindi ottimo ok lo vivo ogni giorno lo vivo ogni giorno ed è quello poi insomma trovare poi qual è il problema che cerchi di andare a risolvere e avere un'ottima squadra di persone che poi se ci pensi in questo periodo di covid dove molte persone e molte aziende sono in difficoltà e lasciano a casa persone anche talenti è un ottimo momento per le aziende invece solide per reclutare persone molto in gamba quindi c'è questo paradosso che poi la cosa è pazzesca pensa è una piccola chicca che do a tutti i miei colleghi manager l'automatismo che hanno avuto quasi tutte le aziende è stato tutti i contratti non a tempo indeterminato ok quindi stage via dicendo mi raccomando chiudeteli tutti è una spazzata pazzesca perché se tu ci abbini fatto che mediamente chi fa stage o chi ha un contratto a tempo ancora determinato o a progetto sono mediamente ragazzi di 26 anni vuol dire che tu ti sei giocato la possibilità di portarti dentro la tua carta per vincere domani cioè è pazzesca sta cosa se ci pensi e tantissime aziende fanno questo errore per tenersi delle persone a tempo indeterminato che non vuol dire che l'indeterminato non sei bravo anzi vuol dire sono bravissimi e bisogna tenersi distretti però non è di certo neanche un modo per dire ho la persona giusta perché ha il contratto a tempo indeterminato certo non è il giusto elemento per valutare ma e questo periodo di covid che aspettative hai tu diciamo come tempistiche perché ad esempio in cina stavo parlando stamattina con un amico e dice cina siamo a shanghai siamo all in 100% superattivi bla 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 ma che aspettative hai ecco rispetto al mercato e alle tempistiche come se siamo un'azienda globale e quindi diciamo che il mondo Europa pesa circa il 35% del nostro fatturato un altro 35% gli Stati Uniti e un altro 30% l'Asia su come è stata gestita in cina sinceramente non mi pronuncio perché altrimenti divento cattivo perché sappiamo tutti benissimo che è una grandissima balla è impossibile che dopo sei mesi da loro ci siano un miliardo di persone in viaggio e da noi invece siamo ancora ridotti così e non credo che sia colpa né di Conte né di Macron né dei politici ma evidentemente c'è qualcosa dietro che noi non sappiamo sta di fatto che il mondo occidentale invece così inetto e incapace e ripeto lo dico con eufemismo ritengo che avrà dei tempi ritengo che questo tempo sarà molto lungo ma semplicemente lato nostro credo che non cambierà il modo o l'entità o la molla o la magnitudo di consumo cambierà il modo di espletarlo tutto qua quindi se uno si sta ancora chiedendo se domani il mondo digitale sia importante gli dico già che è in ritardo se pensa addirittura che è importante avere le vendite online è tipo nella preistoria ok se una persona invece mi sta dicendo come riuscire a ritarare l'azienda sul consumatore gli dico benvenuto nella sfida perché è la stessa che stiamo seguendo anche noi super Silvio sei stato super interessante avrei miliardi di altre cose da chiederti ma li rimandiamo ma un sequel futuro in bocca al lupo per tutto alla prima occasione ci vediamo post covid e così ci chiacchieriamo e ci abbracciamo ci abbracciamo perché poi in chat dicono i tuoi abbracci sono storici diceva qualcuno voglio provare anche io l'abbraccio del Silvio anche perché un metro novantadue tende a essere un po' un po' un abbracione bello avvolgente Silvio alla prossima ciao ciao a te ciao